Tu sei Romeo, un attore gay? Io non sono gay. Lo so, ma volevo dire che tu interpreti un attore gay, è diverso. E soprattutto non ci vada a puttane, sia chiaro. Non è che poi la gente si metta in testa che vada a puttane? La gente parla sempre troppo. Non è uno spettacolo, la gente lo sa che è Romeo che va a puttane, non te. Regista, io queste cose le so, sono un professionista. Volevo semplicemente mettere i puntini su lei. Certo. Certo.